ciao a tutti io sono francino 08 e oggi siamo in una mappa speciale intanto siamo tornati su minecraft bellissimo ma comunque questa è una mappa bellissima che se traversiamo questo muro correndo però perché se lo faccio a piede non funziona ma comunque se oltrepasso questo muro correndo dovrei andare grazie ai comma blocchi piedicendo dovrei andare a una mappa che simula e Hogwarts il castello di Hogwarts bene ragazzi assolutamente prima di che io attraversi quel muro vi dovete lasciare un like iscrivervi al canale perché assolutamente c'ho bisogno è un bisogno nazionale vi faccio vedere subito le novità ovvero oltre il microfono che è sempre stato così però voi magari l'avete visto con il filtro che ora ho tolto perché vi sono accorto che non è che serva così tanto questo invece serve perché sennò sputo sul microfono e quindi è meglio così ma poi la sedia da gaming regalata per natale il mixer che si illumina mixer audio ovviamente eh però voi non la potete vedere non vedrete mai perché spostare questa telecamera e rimetterla è un casino quindi è peggio peggio è peggio comunque uno due tre via via ma aspetta aspetta ragazzi non dovrebbe fare questo caricamento eh non dovrebbe fare il caricamento perché dovrebbe essere lo stesso mondo no cioè io sono ho cambiato il mondo ho cambiato mondo non è possibile no ragazzi questo non è obots vado subito a controllare cosa ho caricato nel computer aspettatemi qua vi faccio vedere anzi cosa allora vedete ragazzi questa dovrebbe essere la mappa si chiama Hogwarts ora io non ci dovrei fare niente qua cioè vi spiego subito io ho scaricato una mappa che si chiama Hogwarts ok e qua ci siamo però qual è il problema che attraverso quel muro attraverso i common block dovrei essere finito io sono entrato su Hogwarts io sono entrato in questa mappa qua e sono finito in un mondo che non esiste allora sto ricaricando il mondo cos'è 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 questo oh oh vedo su delle cose con la protezione del computer e provo a cancellarlo e li elimina e elimino e poi vediamo cosa cosa succede apparentemente si è tolto però qui il mondo ancora c'è scusate stavo cambiando delle impostazioni allora di minecraft ovviamente comunque ora proviamo a rientrare nei mondi solvati e c'è un nuovo mondo che non esiste che io non ho mai creato ragazzi questo mondo allora ragazzi vedete c'è un nuovo mondo che non esiste sarà quello allora e però ho cambiato nome aspetta cartella vuota prova a toglierlo io elimino si elimina ma qui c'è ancora il gioco ora vedo ora vedo se ci sono dei problemi con Avast e controllo un attimino comunque si ragazzi da quello che mi dice non c'è nessun virus ricontrollo comunque si raga c'è un pericolo mi dice che c'è un pericolo però questo pericolo io cosa devo fare devo giocare provo a uscire da questo mondo e rientrare su Hogwarts possibile potremmo fare questa cosa esco dal gioco no entro cosa no perchè mi è rientrato com'è possibile questa cosa c'è capito ragazzi sono uscito e mi è rientrato dopo un po' cioè ve la taglierò questa parte perchè è passato un po' di tempo perchè mi hanno mi avevano chiamato per fare una cosa e e comunque sono uscito nel mondo dal mondo mi è persa la schermata quella la home principale e mi hanno chiamato sono dovuta andare e e torno mi si ricarica la la pagina e la pagina il mondo come perchè questo maiale si è attaccato a me oh ma che hanno ok pure gli animali siete strani boh perchè poi qua c'è una cosa nera boh non lo so comunque perchè c'è una ca no alziamo il volume allora ragazzi allora ragazzi vi prometto che questo non è una finta non è programmato non il video non è stato programmato non non l'ho programmato non è una roleplay vi giuro vi giuro è tutto è vero se provo a uscire dal gioco rientra forse devo proprio uscire da minecraft provo a uscire da minecraft provo a uscire da minecraft provo sono uscito da minecraft ah 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 scusa 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 ragazzi cosa ho chiuso il gioco è passato un po' di tempo ormai una mezz'oretta circa mi hanno obbligato a fare il letto e a caso si è andato a minecraft eh non è possibile ma c'è un libro ma mi sa che sono cambiato un po' di cose cioè mi ha messo una persona nel mondo e mi ha messo il libro ma poi sbagliò o eh il disco non era in questo slot boh non mi ricordo puoi vedere il replay comunque leggiamo dei pirati avevano lasciato un tesoro prendilo dei pirati e qui a fianco c'è una nave affondata ragazzi mi sembra abbastanza ovvio che è qui il posto qui c'è una cassa forse questa prendi la redstone scusate un'altra chiamata inopportunia comunque leggiamoci ma che è successo? ragazzi non so speriamo che non riaccada ora spengo il computer assolutamente così almeno non dovrebbe succedere niente però non lo so non lo so ragazzi ciao chiudo il video ciao 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 ciao